... ... ... ... ... ... ... ... dagli studi di Tenerobaldia va in onda in tutta Italia il TENCHEL DUHO SHOW Se non cambiamo non cresciamo se non cresciamo non viviamo il repanzo che ci prova la giratta il mercato è chiuso e l'intervallo con la carta cosa è successo? e l'intervallo cosa è successo? che è la colpa? che è successo? uno insultava all'altro perché? insomma grazie per essere tornati in studio con noi al take el duro show edizione summer accanto a me la riconoscete mariuccia ma questo è lo studio più bello d'italia il nostro walter frisson ce l'ha fatto vedere ciao ragazze come state benissimo scatenate la nostra jessica brugali ci ha tornato a trovare il nostro poeta maledetto infame non lo so che cosa l'artista il poeta la parte nera del show è tornato con noi ecco abbiamo perso quindi quegli ascolti che avevamo guadagnato con lo studio abbiamo chiara la rotonda in versione mariuccia qui vicino a me con sempre in versione mariuccia abbiamo le nostre giorgia capaccioli e mariella petaggine e ragazzi o ragazze la situazione è veramente tosta dunque parte subito la colonna sonora della nostra trasmissione eccola qua la sento ed è molto interessante si c'è anche pompilio che vuole sapere che cosa è successo a cardiff però nel frattempo la musica c'è e noi parleremo chiaramente di quello c'è un mistero per quello che è successo a cardiff nell'intervallo e molti diciamo tifosi dell'iole si stanno interrogando chiaramente non parleremo solo di questo perché oggi l'argomento il giorno arriva dal milan da donna rumma che 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 se ne va e non rinnova e insomma questo ha destato molto molto scalpore e sinceramente anche un po troppo odio nei confronti del ragazzo che non lo merita e quindi lo diciamo subito il da te che il duro show sta con donna rumma proprio perché è difficile oggi stare con con donna rumma e allora noi ci stiamo caro michelangelo manente andiamo sempre a parlare degli indifesi chi non arriva a fine del mese perché non riesce a guadagnare ma questo primo piano è un po' ansioso allora di solito noi i giornali non li leggiamo più perché ormai sono superati dagli eventi ormai non contano più più che altro perché scrivono tante cose quindi però questa noi la dobbiamo leggere no perché io non sono contento di questo di questo titolo alta infedeltà poi per carità ognuno no alta infedeltà liban al posto della passione ma liban il terribile adesso poi è stato chiamato dolla rumma sono scatenati i geni a casa i copyright e lo so però allora è giusto è giusto ragazze e quindi cuori spezzati chi meglio di voi quanti cuori avete spezzato nella vostra giovane e fresca esistenza giorgia tu avresti mai lasciato proprio io no io ho il cuore spezzato già ah te te l'hanno spezzato quindi tu sei il milan in questo caso e quindi stai stai condolto che per milan vabbè che idea ti sei fatta di questa vicenda ma è la prima volta che ne sento parlare tra l'altro quindi è comunque così è meglio che cambiamo argomento mariella so che invece tu da palpitante tifosa milanista diciamo hai anche un po' carpito quello che è la reazione dell'ambiente no? allora io personalmente ce l'ho rimasta male cioè perché comunque Donna Roma era un po' una speranza e comunque si era diventato il simbolo del milan però cioè non è nemmeno giusto incolpare un ragazzo così giovane che comunque oh 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 finalmente sto sentendo parole di buonsenso grazie grazie ancora una volta alle nostre ragazze che ce lo dicono Jessica allora forse ho un po' ragione anche mariella cioè quando un rapporto finisce la colpa non è mica solo di uno è così esatto Jessica che ne pensi tu di questa storia? no esatto allora il mio cuore non è spezzato però comunque come dice lei non è giusto neanche incolpare un ragazzo giovane che poteva dare ancora qualcosa no? che è infatti tra l'altro insomma noi adesso lo diciamo Migranger Romante sta già disegnando io lo vedo però io credo che forse le parole in musica di un grande artista maledetto sofferente come Vito e Lia possano spiegare che cosa è davvero successo mentre intanto a questo è quello che si sente nel frattempo? bene che è partito qualcosa ma chiedi la mia opinione nel mio cuore spezzato ah beh certo no scusami se me ne ho dimenticato Chiara che cosa ne pensi tu da cuore spezzato? mi dispiace vedere questo accanimento social però l'abbiamo visto dai anche in tante altre occasioni credo che non sia una scelta in realtà molto furba andare via a 18 anni soprattutto come dicono in un grande club perché comunque hai ancora tutto da dimostrare e rischia di bruciarsi io un paio di anni al Milano ancora li avrei fatti soprattutto anche perché gli hanno comunque offerto un contratto insomma allora mettiamola così sicuramente Mariella allora si è sintonizzata sulle tue frequenze perché lei dice attenzione non diamo tutta la colpa a lui però secondo me sarebbe stato giusto a prescindere dal fatto che io sia tifosa del Milan ragionare un po' però sì sarebbe stato secondo me giusto fare un po' di... lo vedete anche su Marca nelle nostre finestre informative qui alla tua sinistra Chiara lo vuoi indica a sinistra Chiara indica a sinistra in alto brava brava Donnarumma si pone a tiro di Marca perché effettivamente in Spagna danno Donnarumma alla Real Madrid allora se non volete farvi spezzare il cuore allora è meglio che non ascoltiate questa canzone di Vito Elia perché veramente questa volta ha suonato col cuore in mano Donna tu si inama la donna chi scocchi è fatto chiagnere lacrime in quantità donna va pura priessa a raiola cataracco un data favola e ti sei fatta in canta donna hai basata pure a maglia sei stata una canaglia e non se può scordare donna, tu sei una mala donna non t'amo più, ti odio e te voglio scordare allora chiaramente no vabbè allora va bene chiaramente si battono le mani all'artista non tanto al messaggio però lui dice donna, si una mala donna non te poti scordare è giusto che il tifoso cioè io capisco il tifoso che ci è rimasto male posso aggiungere una cosa cattiva? ma prego Michelangelo tutti buonisti, tutti un po' così ma se uno sceglie come procuratore Raiola esatto più o meno voglio dire già il background di Raiola lo conosciamo un po' tutti non siamo un po' venuti da un altro pianeta dici Babbo Natale non esiste lo diciamo anche ai nostri amici a casa ce ne sono tanti di procuratori se uno sceglie quello è perché ha già scelto lui perché ha scelto un tipo di carriera da percorrere per cui conoscendo la storia di Pogba conoscendo la storia di Ibrahimo e tanto ci assomiglia di Bellotelli anche di Bellotelli ho studiato una faccia di Donnarumma e di Brahimo che ci assomigliano manca solo il codino vabbè, vabbè, vabbè allora, ovviamente lo dimostrerò le reazioni adesso ce l'hai disegnata vabbè, adesso allora, le reazioni chiaramente sono state lo faccio loro bravo, bravo tutto il codino vai bravo, mi chiamano che sono uguali ecco allora, le reazioni perché non tutti sono come voi che stanno soffrendo no, che per esempio Galliani come la fattura al mare no, quando gli chiamano gli dicono oh, guarda che Gigio ha detto al fassone che non rinnova oh, 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 oh vabbè oh no vabbè, adesso 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 noi siamo qua per raccontar